Ma fatemi capire, ma oggi che è successo? Cioè, ogni tanto la Serie A ha queste cose, no? Che ci stanno giornate in cui è noiosa, tutte le partite finiscono 0-0, 1-0, 1-1 massimo E poi ci stanno queste giornate dove le partite finiscono 4-3, 5-4, 8-2, 7-7, cioè vabbè, esagerare Va bene Torino-Bologna Risultato clamoroso, per quanto mi riguarda è clamoroso, regà, perché, cioè, di sicuro potevo aspettarmi tutto Ma non che il Torino perdesse in questo modo contro il Bologna Cioè, ma che Bologna, cioè, regà, veramente, avete visto? Il Bologna ha cambiato allenatore e, puff E si è trasformato, regà Bologna si è trasformato Se io vado a prendere le ultime partite del Bologna Allora, il Bologna ha vinto contro il Cagliari Ha vinto contro il Torino Ha perso solamente contro Roma E nonostante contro la Roma abbia fatto 87 tiri a 2 La Roma abbia fatto 2 gol, però vabbè, quello è un altro discorso Contro la Juventus, 1-0 Quindi, insomma, neanche, tra l'altro, 1-0 con un gol, cioè, con l'unico tino della Juve dentro la porta Ha vinto Poi, aveva... l'unica partita che poteva vincere è quella con l'Udinese che invece ha perso Però, insomma, non è che veramente poteva perdere sempre Ha pareggiato col Genoa Ha vinto contro l'Inter Cioè, da quando c'è Miajlovic, regà, ha fatto 3 vittorie Un pareggio e 3 sconfitte Di cui 2 arrivate... oddio Di cui 2 di queste sconfitte arrivate contro Roma e Juventus Quindi, l'unica imputabile... l'unico passo falso imputabile è quello contro l'Udinese Perché contro Roma e Juventus che volevi fare? Anche se contro queste due hai dominato Sia la Roma che la Juventus le hai dominate E però hai perso perché ovviamente sono più forti, però va bene Oggi invece ha fatto il clamoroso Oggi veramente ha fatto il clamoroso, regà Perché ha vinto 3 a 2 contro il Torino E fino all'ottantanovesimo stavano 3 a 1 Quindi, insomma, il 2 a 3 È giusto così per... Per dire, eh, abbiamo fatto il 2 a 3 Sono contento Però... È successo di tutto, veramente, regà È successo di tutto Allora, va in vantaggio il Torino Su un autogol Perché è stato dato l'autogol a Pulgar Però effettivamente c'è stata la deviazione Non è che se l'è buttata in portata solo Però, boh, forse la palla usciva fuori Non ho visto benissimo Pareggia Poli 1 a 1 Poi, rigore di Pulgar 2 a 1 Sul fallo di Metè Nettissimo perché c'ha il braccio così Non capisco Cioè, non mi puoi di che te stavi a proteggere Perché il braccio ce l'avevi qua Non ce l'avevi qua Cioè, che stai a proteggere? L'aria a fianco a te? Cioè, non lo so Ce l'aveva qua il braccio La palla mi sbatte qua Ok, che non la vedeva Però ce l'avevi qua il braccio Se tu lo tenevi magari Se stavi normale L'avresti presa con la spalla Nessuno ti avrebbe detto niente Stavi così Così stavi Cioè, non è neanche protezione Cioè, non è che stai così Sto così Perché la palla mi sta arriva in faccia Sto così è protezione Cioè, stavi così Quindi, insomma Rigore nettissimo E Pulgar lo tira benissimo E poi Questo è nel primo tempo Poi, secondo tempo Ripartenza pazzesca del Bologna 3 contro 2 3 contro 3 Non mi ricordo Palasio che dà una palla bellissima Orsolini che fa Che dipunta la mettita Tra l'altro, raga Orsolini È un bel profilo, raga Cioè, Orsolini Non è malissimo Anzi, anzi È un gran prospetto Orsolini Bisogna tenerlo d'occhio Bisogna assolutamente tenerlo d'occhio Ma Palasio, raga Io lo amo Cioè, non gioca Io già quando giocavo all'Inter Io lo amavo Figuriamoci adesso Cioè Io lo amavo Io l'amavo alla follia all'epoca Quando c'era l'Inter Lo amo ancora adesso Cioè, raga Farebbe faville Nell'attacco che abbiamo adesso noi Al posto di Perisic Cioè Perché Palasio è uno che ha l'esperienza Avete visto oggi Cioè Ogni volta il pallone Ce l'ha da Palasio Non ci vedono più niente Scusate Ciao Siete Ogni volta che il pallone Ce l'aveva Palasio Il Torino non lo vedeva Perché Palasio è di un'intelligenza Non sarà velocissimo Ma ha un'intelligenza E una tecnica pazzesca, raga Pazzesca Basta vedere sul gol del Qual era il gol Quello annullato A Sansone Il gol annullato a Sansone Ha fatto una cosa pazzesca Stava da solo in era di rigore Stava da solo Chiunque altro avrebbe tirato Lui no Ha aspettato Intelligentemente Ha aspettato che tutti Quando arrivassero Ha aspettato che arrivassero Cinque giocatori in era di rigore No scusate Compreso lui Cinque giocatori in era di rigore E l'ha messa là Sulla testa di 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 No Soriano Scusate Sansone Di Sansone Che però Era in fuori gioco Perché c'era la spalla In fuori gioco Però Tra l'altro a Bologna Gli hanno annullato due gol Qui stava da Potatene 5 a 1 5 a 2 Scusate Compresi i gol Perché Attenzione Non sto dicendo che erano Sbagliati da annullare Assolutamente I gol Erano da annullare Tutti e due Perché sul primo Stava in fuori gioco Perché Stava oltre il portiere Però c'era solo Un giocatore Oltre il portiere Ce ne dovevano Stare almeno due E quindi Fuori gioco netto E sul secondo C'era la spalla Che era oltre il fuori Sì oltre il fuori gioco Certo Vabbè Io devo fare un corso Un corso di dialettica Perché non è possibile Allora C'era la spalla Oltre L'ultimo giocatore Oltre l'ultimo Difensore Del Torino Perfetto Sono riuscito a dirlo Da lì poi Il Torino Ha provato ad attaccare Il Bologna Non è più ripartito Praticamente Il Torino Ha continuato ad attaccare Però è stata Veramente una bellissima partita Soprattutto nel primo tempo Raga Fantastica Fantastica Veramente Una partita Oggi Oggi sono tutte belle partite Tutte Spal Roma Qual era quella Da prima Vabbè Torino Bologna Qual era quella Da prima Sassuolo Sampdoria 3 a 5 Di che stiamo a parlare Vabbè Pazzesco Raga Queste sono le partite Che a me piacciono Quelle giocate a viso aperto Quelle dove Ci stanno 800 occasioni da gol Cioè questa qua È una partita Che potenzialmente Poteva finire anche Con 7-8 gol Entrambe le squadre Intendo Perché ripeto Al Bologna Hanno annullato Due gol Giustissimi Da annullare Però potava finire Come vi pareva a voi Potava finire Sta partita Skorupski Che fa una paperata Assurda Sul gol di Izzo Dopo che era stato Espolso Lianco Cioè Allora Espolso Lianco Che secondo me Non c'era Allora Secondo me Il secondo giallo Non c'era Perché Non mi sembra Che faccia un fallo Così eclatante Da giallo Non mi sembra Cioè era fallo Sì Il fallo c'era Ma non era da giallo Secondo me Poco male Perché poi alla fine Insomma Ha vinto comunque Bologna E sulla punizione Poi scaturita Dal Dal Rosso A Lianco Arriva il gol Del 3 a 2 Di Izzo Che tra l'altro È stato anche Convocato in nazionale Raga Ditemi nei commenti Se volete un video Sulle convocazioni In nazionale Sui convocati Della nazionale Su cosa ne penso Perché Della prossima settimana Ci abbiamo La nazionale E sarà la prima volta Che su questo canale Porterò la nazionale Che bello Che bello Una princera La prima volta per tutto Va bene Insomma Poi viene espulso Olaina per proteste Perché lì è stato Pollissimo Pollio No pollo Pollissimo Che non si dice Ma io lo voglio dire Pollissimo Perché Non puoi fare una cosa Cioè Stai al 92esimo La tua squadra Deve recuperare un gol Cioè Fare Se tu Tu sei scemo Se vai addosso All'arbitro Gli fai Gli dici quello Che gli ha detto Non lo so cosa gli ha detto Ma sicuramente Nulla di bello Cioè Sei stupido Sei stupido Perché poi l'arbitro Di espelle E devi stare pure zitto Che Olaina Sei stupido Detto questo Però Poi alla fine Non ci sono state Altre clamorose occasioni C'è stato un tiro Di Diago Falch E bel tiro Però Centrale Non ha avuto problemi Skorupski La partita E la partita Si conclude 2 a 3 E il Bologna Si porta Porta a casa Altri 3 punti Che gli permettono Di uscire Dalla zona Retrocessione Perché adesso Sta a 24 punti E adesso è l'Empoli Che sta sotto Col Frosinone Che sta adesso A 17 punti Quindi regà Il Frosinone Dovrebbe vincere Due partite E l'Empoli Dovrebbe perdere Due Per andare Terzultimo Frosinone Non lo capisco Regà Sinceramente Perché è una squadra Allora Sembra che Ha fatto Una campagna Acquistica Ha rivoluzionato La squadra Non capisco perché Cioè Comprare 12 giocatori È da stupidi Cioè Non puoi comprare 12 giocatori Comprane 4-5 Però devi lasciare L'ossatura Cioè Se tu compri 12 giocatori Quando giocano Insieme a quelli In se conoscono Nessuno Come fai E niente Regà Il Bologna Vince Che poi ha fatto Che fondamentalmente Il Bologna Ha fatto meno tiri Del Torino Perché molti meno tiri Perché il Bologna Ha fatto 9 tiri totali Che è successo? Mi sembra scarico al telefono Vabbè Tanto ho finito 9 tiri totali Contro i 20 del Torino 8 tiri 8 tiri Nello specchio Del Torino Contro i 4 Del Bologna Però il Bologna È stato cinico Quello è Quello conta Se tu sei cinico Vinci Ed è quello che dovremmo fare Nel derby noi Ma magari fa 3 tiri 3 gol Ma magari Speriamo non a culo Ma anche a culo Chi se ne frega Ma Perché in questo periodo Mi va bene tutto Niente regà Iscrivetevi al canale A te la campanellina Iscrivetevi nei commenti Cosa ne pensate di questa partita O anche di altre partite Di altri argomenti Anche quello che voi fate Lasciate un tanti mi piace E seguitemi sugli strami Noi ragazzi Ci vediamo domani Grazie a tutti Grazie a tutti